Tutto il collegio è solo su RaiPlay. Scarica l'app. Sono Luca, ho 15 anni e la cosa più faticosa della mia vita è convivere con me stesso. Di solito alle ragazze piace lo stereotipo di ragazza. Alto, biondo, coi fusilli in testa, palestrato. Ma io sinceramente non voglio esserlo. Luca è tremendo. Sul fattore della scuola? È un lazzarone di prima categoria. È intelligente, però lui a scuola non si impegna. A parere mio la matematica è utile, finisce all'elementare. A me basta saper fare più o meno diviso e perdere. La geografia è inutile, a priori. C'è GPS sul cellulare. Egizi, turchi, faraoni, chi se li cagano, sono morti. La vita è una e non la voglio buttare. La vita è una e non la socca.